La firma è importante. È il mio inizio per la lotta sulla legge sull'omicidio sul lavoro, che la sicurezza è importante e tutti devono tornare a casa. Sono passati due anni, quattro mesi e quasi un giorno oggi dalla perdita di mia figlia e vedo che è sempre uguale. Si dice che la legge è uguale per tutti e si dice anche che si fa nelle aule di tribunali, no? Si va lì, però come dico io la nostra legge ci si può girare intorno. Due anni lei, un anno e sei mesi lui, patteggiamento, condizionale, giudizio di pena sospeso. Dopo aver elencato tutto quello che avevano commesso, tutti i reati. Grazie. Grazie.